Una svista, una disattenzione e la bici finisce contro l'auto. Una Volkswagen Caddy guidata da una donna di Romano Dezzelino di 59 anni ma francese d'origine ha colpito la bici di una signora residente a Cittadella, classe 44, che si stava dirigendo al San Bassiano. Tanta paura per entrambe le donne, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. La signora di 73 anni è stata vista dalla personale del pronto soccorso soltanto per degli accertamenti. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.